Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu e io sono Tatsuna Oh amico mio, facciamo questo partito di Juventus per una, terminata sull'1-0 con gol di Cambiaso al 97esimo Ma ci arriviamo per gradi Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui video che carichiamo Se volete seguiteci su Instagram, Senza Giri di Parole, ci farebbe molto piacere E sempre, se non vi disturba questa cosa, condividete questo video magari con qualche vostro amico appassionato di calcio Oppure tifoso juventino in questo caso, o tifoso del Verona Così ci aiutate a crescere la community e diventiamo sempre più pieni di opinioni diverse Allo, Tatsu, impressioni su questa partita? Beh allora, se il calcio fosse uno sport moralmente corretto finirebbero tutte così le partite che appunti ti sei meritato Quindi, in primis ti dico, per quanto la Juventus abbia le sue responsabilità Perché essere poco pratici nella finalizzazione è un problema di una squadra Non è che sia una responsabilità dell'avversario Alla fine se la sono meritata tutta questa vittoria Perché io non lo so come il Verona intendesse portarsela a casa questa partita Perché non so quale sarà stata la sensazione di Baroni oppure la sensazione di voi a casa Però io ho veramente percepito che ogni cross della Juventus potesse potenzialmente essere un gol Infatti, non posso metterlo nel video, però c'è un mio padre come testimone Che io proprio nei minuti di recupero ho detto Speriamo che non riescano a fare un altro cross Perché se ne fanno un altro, ne fanno pure un altro gol E a parte quelli di Kane sono stati naturalmente annullati giustamente Non c'è nessuna stranizza Non so perché a Dazon Che peraltro con una mano si vanta che ci avrà fino al 2029 a rompere le palle E con l'altra mano invece si dichiara Super Partes Quando poi un telecronista dice Sì, ha dato una manata, ma non è volontario Come se significasse qualcosa Per il regolamento, che l'abbia fatta apposto o che non l'abbia fatta apposto Comunque è una manata in pieno volto Nel bel mezzo di un contrasto di gioco Però ecco, dicevo Sinceramente È una vittoria meritata Che pone la Juventus in una situazione Positiva Perché ok, hai vinto una partita tostissima Questa è una di quelle partite tipo Napoli-Spezia Dell'anno scorso Che tu devi vincere e le vinci soprattutto Con la cattiveria che ti ritrovi in squadra Però alza anche l'ennesimo campanello d'allarme Sulla fase offensiva della Juventus Perché poi parliamoci chiaramente Il Verona stasera Non ha fatto nulla di serio Per mantenere il risultato A parte metterci un po' d'agonismo di base Non ha fatto niente Perché erano veramente molto fragili Il fatto che la Juventus non sia riuscita a ritrovare Soprattutto in Blaovic Una chiave per sbloccarla Prima del 96esimo Può aprire qualche scenario dubbioso Sul futuro della stagione della Juventus Allora Come non essere d'accordo Col tuo punto di vista Più che altro si può aggiungere Che il Verona Oltre che In alcuni momenti della gara Dove si è riuscito a ritagliare Qualche occasione Con lo strapotere aereo di Juric Che gli buttai la palla addosso E lui con le spizzate Ha fatto creare delle situazioni Con Bonazzoli Con lo stesso Con Duda Con Folonuscio Con Doi Cioè ci sono stati degli spunti Del Verona Sempre con la stessa strategia Però a parte quello La Juventus ha dominato Cioè forse come non gli avevo mai visto fare Nessuna partita E Diciamoci la verità I gol di Ken Sono stati annullati Giustamente Ma per veramente Delle irregolarità Che sono state Figlie anche del caso Se vogliamo aggiungere Questa parola qui Perché quella lì Del Del fuorigioco Eh ragazzi Era fuorigioco Ma stiamo parlando di Un mezzo secondo Scarso forse Perché se Se Ken fosse partito Veramente Una frazione di secondo Prima Non era fuorigioco La stessa cosa Nella sbracciata Lì È vero che Ken allarga il braccio Ma lo colpisce Praticamente Alla fine Del movimento Quindi In un'altra Se avesse allungato il braccio Un pochino meno Non lo colpiva nemmeno Però Per me Sono due gol da annullare Perché Era no Sia fallo E sia fuorigioco Per il resto Per il resto Le occasioni che si è ritagliata La Juventus In alcune situazioni Si sono Non si sono trasformate in gol Anche per abbastanza Sfortuna Però Come fai ben notare Tu non puoi Arrivare al 97 E segnare Tra parentesi Con Cambiaso Che è tanto di cappella Cambiaso Che è riuscito A fare questo gol Della vittoria Ma ci rendiamo conto Come è arrivato Questo gol Su Cambiaso Che si ritrova il pallone Lì E la spinge dentro Cioè Non c'è stato niente Di Cioè Questo gol Non nasce Da una Situazione di gioco Che si viene a creare Da un'idea Nasce Perché a un certo punto Gatti Sul 96 E passa E qualche secondo Allo scadere Dice Ma si buttiamo Stavalli in mezzo Milk Che è fortissimo Nei duelli aerei Ci arriva prima Prende il palo E Cambiaso Si ritrova lì Che giustamente La spulla Butta dentro Però capì Non si può Partire da questo gol Cioè La Juventus C'ha il problema Attaccanti Incredibilmente L'attaccante Il più in forma Che c'hanno E Moseken Che con tutto Che non ha segnato Ha referto Ed è stato sostituito Perché giustamente Allegri L'ha visto Leggermente nervoso L'avrei fatto anch'io Anche se Sembra ingiusto Dal punto di vista Del ragazzo Lo capisco Però Era troppo Nervoso Dopo Il secondo Con l'annullato E l'ammunizione Che è nata Praticamente Da una protesta Anche abbastanza Esagerata Quindi Io l'avrei cambiato Addirittura Leggermente prima Cioè Istantaneamente Appena visto Quella reazione Perché I giocatori Purtroppo Non si fanno Dominare Dalle emozioni In queste situazioni E tu non puoi rischiare Di finire con un uomo in meno Perché Ken sta giocando bene Perché Ken ha fatto Una prestazione Top Veramente Eccezionale Ed è l'attaccante Più in forma Della Juventus In questo periodo Con Chiesa Che deve ancora Rientrare a pieno regime Vlaovic Che è il fantasma Di se stesso Anche per gli infortuni Ma Non è Vlaovic Questo Levatevelo Proprio dalla testa E Milik Che comunque È quello Che insieme a Ken Riesce sempre A fare qualcosina Di buono Però Non è ancora Cioè Non riesce a diventare Il Il fulcro Dell'attacco Milik Io Peraltro Ti ritorno Rapidamente Alla questione Di due gol Di Ken Annullati Il Fuorigioco Lo faccio passare Però L'importanza Dell'arbitro Molto spesso È in queste cose Perché Se l'arbitro Vede una cosa Che è conclamata Clamorosa Come Il tocco Di mano Sulla faccia Di faraoni Tu non hai bisogno Di far succedere Tutto quel casino Non hai bisogno Di annullare Un secondo gol Non hai bisogno Di far proseguire Un'azione Non hai bisogno Di rovinare La partita Ken Che per carità Se la rovina Da solo Perché un giocatore Emotivamente Troppo Passionale Chiamiamolo così Che vi devo dire Dominato dalle passioni Però sta di fatto Che gli arbitri Servono pure a questo Cioè Tu non hai bisogno Del bar Che sia andato Al bar È meglio Per carità Che non esserci andato Ma tu non hai bisogno Di andare al bar Caro Feliciani Per vedere Che un giocatore L'ha letteralmente Preso a manate Un altro Poi sì La dinamica Può essere Può essere complicata Il badisco Meglio che ci sia andato Che non ci sia andato Però rimangono I problemi Degli arbitri Che veramente Con troppo poco carisma Guidano le squadre Cioè Io voglio capire Per esempio Il fuorigioco Perché Il fuorigioco Non devi annullare Perché la Se ne può Procedere Tu l'annulli Per niente In questo caso Invece Non c'era niente Da far procedere Nel senso Stavamo a centrocampo Se anche richiamavi Non è che avevi fermato Chissà cosa Avevi fermato Un'azione Che poteva E non poteva Non è che avevi bloccato Un'azione Che stava Dulcis in fundo Sulla lunetta Dell'area di rigore Prima dell'area di rigore Quindi Parte questo Mi accodo pure A quello che hai detto Ti dico sì Ma il problema principale Della Juventus È questo Perché Compatti sanno giocare La cosa interessante Ecco Questo più che altro Volevo dire Ricollegando Nel discorso Che facevi La cosa bella Della Juventus Brutta È che È una squadra Che pure Quando domina Non è bella A vedersi Cioè È una squadra Che tutto Andiamo sulle fasce Mettiamolo in mezzo Mettiamolo in mezzo Quindi non si percepisce Neanche Quando poi fanno Questo tipo di partite Perché Sono abbastanza convinto Che se tu chiedessi A qualcuno Ma la Juventus Ha dominato il campo Ti direbbero Sì Però non è che Domina il campo Come domina un Milan Un Inter Un Napoli Però è concettamente Sbagliato Perché poi Effettivamente è stato così Nel senso che Il Verona al campo Non l'ha visto È rimasta tutta dietro Segregata E la Juventus Dominava Solo che la Juventus Dominava In maniera poco Evidente Passandola soprattutto Sulle fasce Cercando di mettere Il pallone in mezzo Successivamente Però devo dire Questo è È figlio Delle caratteristiche Dei giocatori Che ci sono in campo No no Ma i fatti Loro fanno bene A parte che tu Quando giochi così Tanto largo Con un 3-5-2 Ci sta E tu faccia così Sì No Perché altro esempio Immaginati in questa Questa formazione Che c'è Se hai in campo oggi Metti Di Bala Al posto di Vlaovic Oppure al posto di Ken Ti esce un'altra partita Ma perché Sei pure più invogliato A venire in mezzo al campo E il giocatore tecnico Che ti imbuca Ti fa praticamente Lui da regista avanzato Se c'hai comunque Dei saltatori E basta Con Rabioga E McKennie Che comunque Si possono inserire Da dietro E c'è comunque Due crossatori Come Costi C'è UEA Cioè alla fine È pure normale Che esca Una partita del genere Ma infatti Poi quando è entrato Cambiaso e Chiesa È cambiata la gara Cioè proprio il modo Di impostare l'azione Della Juventus Ma lo stesso Amiretti Quando è entrato Cioè Amiretti Cambiaso e Chiesa Hanno portato Una qualità Non indifferente Infatti Le occasioni Che hanno creato Nel secondo tempo Anche se non sono Non si sono concluse Con un gol Sono state Anche abbastanza belle Da vedere Dal mio punto di vista Cioè Chiesa È entrato bene E che secondo me La grande differenza È che come dice Sempre Allegri A lui non piace Giocare nello stretto Quindi siccome I suoi giocatori Non giocano quasi mai Nello stretto Se non quando fanno Ecco dei protagonismi Personali Magari uno o due Dai e vai Con i compagni Giocando sempre Nel largo Cercando gli spazi lunghi Poi di fatto Sembra di non vedere Una Juventus bella Però per esempio Juventus di stasera Ovviamente è una squadra Che ha fatto bene Ha fatto bene Il suo dovere Anche poi dal punto Di vista difensivo Ma guarda che A me Ha impressionato Anche il fatto Che Gatti Abbia fatto quasi Una partita Da difensore Della Atalanta Cioè Gatti È venuto a giocare Nella tre quarti Ad un certo punto Faceva le sgaloppate Perché gli lasciavano Lo spazio E veniva Palla al piede Da solo Sopra E vedere Un difensore Della Juve Fare una cosa Del genere Particolare Cioè io ho visto Una quantità Di partite Della Juventus Incredibile Cioè veramente Potrei Mettermi a confronto Con un tifoso Della Juve In questo momento Per partite Della Juve Che ho guardato Ma effettivamente Un difensore Che ha fatto Quello che ha fatto Gatti Oggi All'iollo offensivo Si conta Su una mano In una partita Della Juventus Con Allegri In panchina Sì sì Infatti è così Pure io Mi sono sorpreso Di come Gatti Abbia tirato fuori Le unghie In questa partita E così Possiamo concludere Il video Diciamo Soltanto Diciamo Soltanto Che la Juve Con questa vittoria Si porta al primo posto Temporaneamente E chissà Magari ci resterà pure Dopo Aspettando Inter e Milan A 23 punti 7 vittorie Due parigi Una sconfitta 16 gol fatti 6 subiti C'è una Juventus Che in 10 partite Dopo 3 anni e mezzo Se non sbaglia Ritorna al primo posto Secondo te Significa qualcosa Un messaggio al campionato C'è pure la Juve Per lo scudetto Sì Sì Però la Juventus Ha dei problemi Grossi Che deve risolvere Se vuole competere Fino alla fine Perché A meno che Effettivamente Non riescano a vincerle Tutte Ivi compresi Gli scontri diretti Con il tiro di Locatelli Che si trasforma In una deviazione Di Krunic Che va in rete Diventerà difficile Vincerle tutte Così Oppure colpo di testa Di Milik Che prende il palo E va sul piede Di cambia Però La Juventus Ci ha vinto I campionati Così Quindi Secondo me Non sarebbe Neanche una cosa Così assoluta Cioè È proprio Nel loro DNA Con quel fatto Di Saper far nascere L'episodio Che ti fa Vincere la partita È vero È vero È proprio È proprio Così Ragazzi Questo video Finisce qui Fateci sapere Cosa ne pensate Con un commento Lasciate un like Se il video è piaciuto Arrivate Anzi Ce la facciamo ad arrivare A Facciamo 54 like Vai Aumentiamo sempre di più E Chi è arrivato A questo punto del video Deve scrivere nei commenti La curiosità Uccise il gatti Eh già No Non scrivete Mettici col mio per voi Scrivete Hashtag La curiosità Uccise il gatti Eh vabbè Stendiamo un velo Poglio troppo bene A sto giocatore Alla prossima ragazzi